ciao a tutti oggi sono qui nella mia cucina che sto preparando la mia pausa pranzo per domani faccio seguito le numerose richieste che mi avete fatto in questi giorni io ho preparato uno dei miei speciali piatti unici oggi in particolare ho preparato una gustosa insalata di farro con la feta i pomodorini i cetrioli e le olive quindi ho usato anche questo caso una sola proteina per avere il kit ideale della pausa pranzo quindi anche per affrontare tutta la giornata lavoro fuori casa ho preparato anche già la merenda in questo caso ho usato una banana come frutta e per essere ecologici e usare meno plastica ho preparato la mia borraccia questo kit può essere utile e quindi con la borraccia la merenda e una pausa pranzo con l'insalata di farro sana non solo per una giornata lavorativa però è anche un'idea per trascorrere una giornata in piscina quindi evitare i panini e troppi gelati e anche per una giornata al mare perché ho scelto il farro il farro per chi non lo conoscesse è una graminacea appartiene quindi alla famiglia delle graminacee è un cereale che è ricco di fibre e quindi è particolarmente indicato per chi è dieta perché essendo ricco di fibre aiuta a regolarizzare il transito intestinale inoltre è ricco di selenio quindi aiuta a prevenire radicali liberi ed è anche molto ricco di ferro quindi il mio suggerimento è quando dovete passare una giornata fuori casa o al lavoro o in piscina o al mare non ricorrete solo alle piedine perché sono veloci basta un pochino di organizzazione e un po di fantasia per preparare un piatto gustoso sano leggero e salutare ma soprattutto ecologico quindi senza usare plastica manuso ma borracce e contenitori che poi si possono lavare bene al prossimo appuntamento per il prossimo consiglio per l'estate buon mare perché al mare buon lavoro per chi lavora come me ciao a tutti